Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A Tech Day, buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Le vostre domande sono in pieno conflitto di interesse su un iPhone e allora andiamo a rispondere subito dopo la sigla. La prima domanda è di Mariano Lascuola, che ne pensi di Xiaomi Mi 8, meglio OnePlus 6? Allora, OnePlus 6 lo sto testando da tanto onestamente, arriverà molto presto una review, mi sto prendendo del tempo perché anche con Claudio vogliamo un attimo capire se lo smartphone effettivamente ha dei problemi che stiamo riscontrando oppure no. Quindi ci stiamo lavorando in due, ma arriverà molto presto una recensione con fronti col 5T, insomma, e poi arriverà anche un video molto polemico su la scia di un video fatto l'anno scorso col 5T e con un altro smartphone. Ad ogni modo le premesse di Xiaomi sono interessanti, la dotazione hardware è quella che ci aspettiamo da uno smartphone del 2018, diciamo che è proprio un telefono stracopiato da iPhone, cioè mentre altri hanno scelto comunque di portare il notch, ma di ridurlo, di cercare di rendere il telefono un minimo con personalità, lo Xiaomi Mi 8 non ha proprio personalità, né sul retro né sul fronte, sì c'è l'Explorer Edition, ma lo sapete che l'Explorer Edition non è, non ha una scocca trasparente, ma quello è un adesivo che riproduce quello che c'è sotto. Questa cosa ha fatto un po' incavolare chi si era innamorato di quella versione e onestamente anche a me non ha fatto grosso piacere apprendere che in realtà fosse un adesivo, ma in ogni caso insomma è un telefono che sicuramente sarà prestante, avrà un'ottima fotocamera che è la stessa del Mi Mix 2S tra l'altro, quindi mi aspetto comunque nel complesso un device buono, vedremo poi come girerà rispetto a OnePlus 6. RRZZ, ciao Andrea, in questo periodo tutti stanno parlando del nuovo operatore di Liad, tu cosa ne pensi? Io penso che ce l'ho sul mio OnePlus 6, che lo sto provando davvero, non dico chiacchiere, e tutto sommato devo dire non sto avendo grossi problemi nella mia zona, si appoggia alla rete 3wind, che qui comunque prende benino, prende discretamente, ho ottenuto buone velocità in download, non buonissime in upload, bisogna dire ma l'upload su uno smartphone non mi interessa onestamente, ricezione abbastanza buona, in dei casi anche meglio di Vodafone sull'iPhone, quindi devo dire non male, poi il prezzo 6€ al mese, 30GB, caspita, va benissimo, va benissimo, avere qualche problema, ci sta ragazzi, la differenza è che Vodafone Team sono Lamborghini e Ferrari, chiaramente per copertura e per qualità della rete, i Liad come anche 3wind, i Liad magari è una panda, 3wind sono una, non lo so, una Bravo, ecco, non una Ferrari e una Lamborghini, quindi è chiaro che la Ferrari costa di più della Lamborghini, ma è una macchina, o meglio, una cosa di più della Fiat, ma è una macchina che ti offre tanto di più, quindi ci sta, è un operatore low cost, bisogna accettare che magari non prenda sempre, bisogna accettare che in Europa i giga siano solo 2, perché veramente così non sono 30 più 2, sono solo 2, come anche Kena, Kena mi sa che da 1 giga in Europa, i Liad ne dà comunque 2, quindi qualcosa in più, e bisogna accettare questi compromessi, state pagando molto poco, state ottenendo sulla carta tanto, se poi ogni tanto non prende, se volete che prenda ovunque, andate di Vodafone. Riccardo Asara, ciao Andrea, che smartphone mi consiglieresti per avere aggiornamenti costanti e che durino un paio d'anni? Sono indeciso tra Honor 10, ma ho paura che dopo un annetto venga abbandonato, dovrei spendere massimo 400 euro e vorrei una marca conosciuta che non sia Xiaomi, eccetera. Allora, io ho due proposte per te, se vuoi stare sotto questa cifra puoi benissimo prendere il Moto G6 Plus che magari non sarà uno smartphone che riceverà gli aggiornamenti subito, ma stai tranquillo che li riceverà perché Motorola comunque segue i dispositivi piuttosto bene. In alternativa, se vuoi spendere un po' di più o se vuoi comunque spendere quelle cifre magari non acquistando uno smartphone di ultima generazione di questa azienda, vai su OnePlus, perché OnePlus ha ad esempio il OnePlus 5, dovresti trovarlo su quelle cifre, anche il 5T, magari usato, e comunque sono smartphone che vengono parecchio aggiornati nel tempo, quindi possono essere un'ottima soluzione. The Sniper, ciao Andrea, secondo te è meglio Huawei Mate 10 Pro o OnePlus 6? Ragazzi, però queste domande, è meglio o è meglio? A me non piacciono tanto, perché alla fine, soprattutto in questo caso, OnePlus 6 non è meglio di Mate 10 Pro, ma Mate 10 Pro a sua volta non è meglio di OnePlus 6, sono due telefoni molto diversi, diciamo che è meglio, si può dire, quando i telefoni offrono caratteristiche simili. Mate 10 Pro è pensato per un'utenza un po' più professionale, modalità desktop, design, che a me piace tanto, ma forse quello di OnePlus 6 è un po' più recente, non hanno entrambi la ricarica wireless, batteria a favore, notevolmente, di Mate 10 Pro, fotocamera siamo lì, secondo me, forse un pelo a favore di Mate 10 Pro, lo schermo come forma, come caratteristiche, come qualità, mi sembra meglio sul OnePlus 6, insomma, sono due telefoni un po' diversi, uno un po' più da modder, da smanettone, l'altro un po' più per chi vuole lavorare, chi vuole stabilità, sicurezza e modalità desktop, quindi sono alla pari, non c'è uno meglio dell'altro. Mario Milazzo, chieni, qual è lo smartphone con la migliore fotocamera sotto i 250€? Devo dire, mi ha particolarmente sorpreso la fotocamera di Redmi 5 Note, di cui trovate la recensione sul canale per guardare gli scatti e per capire di cosa sto parlando, non solo buone foto per la fascia di prezzo, ma anche buoni video, secondo me quello è uno smartphone veramente molto sottovalutato, che dovrebbe essere acquistato da molte più persone, che magari poi vanno a spendere le stesse cifre per un prodotto di una marca famosa, ma che è un prodottaccio, è una robaccia di proprio pessima qualità, invece il Redmi 5 Note sta sotto i 200€, sicuramente, anche se l'ho comprato in Italia, ha un'ottima fotocamera doppia e ha tante altre caratteristiche, come comunque un processore veloce, una buona RAM, buona memoria, un software aggiornato, tra l'altro c'è già la possibilità di installare la MIUI 10, anche se in preview, e una batteria che dura anche due giornate, oppure qualcosa di più. Quindi è uno smartphone a tutto tondo che ha anche un'ottima fotocamera, ti consiglio lui. Giacomo Caravelli e Andrea avevano detto che S9 aveva oltre che S9 Plus anche S9 Mini e S9 Neo. Allora no, o meglio, si era parlato a livello di rumors, quindi di informazioni non ufficiali diffuse da Samsung, che ci potesse essere soprattutto un S9 Mini. Non è detto che non arrivi, perché insomma ci siamo ancora con i tempi, abbiamo ancora sei mesi prima, anzi più di sei mesi prima della presentazione di un S10, quindi ecco, aspettiamo, non è detta l'ultima, ma c'erano state anche dei benchmark di un S9 Mini, quindi vedremo poi se e quando sarà ufficializzato da Samsung. E siamo arrivati all'altra domanda, così meglio uno o meglio l'altro, AMOLED o IPS? Mi chiede Francesco. Nessuno dei due, oppure entrambi? Perché io utilizzo con tranquillità sia smartphone IPS sia smartphone OLED. Alla fine ragazzi, nel quotidiano non notate neanche la differenza, o meglio, di sicuro l'OLED oggi lo notate al buio, perché con i neri totali non vi acceca, magari è più piacevole da leggere di notte, poi comunque lo sviluppo dei pannelli OLED è quello che sta andando più avanti, quindi ormai hanno anche loro colori molto vicini a quelli di un IPS, quello di iPhone X non sembra proprio un OLED, sembra assolutamente un IPS, e quindi c'è meno color shifting. Certo l'OLED ha i suoi problemi, il burn-in, magari una luminosità sotto il sole non elevatissima come quella di un IPS, angoli di visione che non sono come quelli di un IPS, pro e contro, quindi dipende un po' dall'utente, ma in realtà poi l'utente medio la differenza, neanche la nota. Ma ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo Q&A Tech Day, allora vi invito a farmi le vostre domande per il Q&A di settimana prossima qui sotto nei commenti, e vi invito anche a lasciare un like, ad iscrivervi se vi è piaciuto questo nuovo video. Noi ci risentiamo, in ogni caso, in un prossimo video. Ciao a tutti, da Andrea Cermone per Tech.it, e vi prometto che la prossima settimana ci saranno parecchi contenuti in più rispetto a quelli risicati che ci sono stati in questa settimana, causa evento Apple, ma arriveranno un bel po' di confronti, un bel po' di video polemici, magari anche qualche recensione, insomma ci vediamo settimana prossima con tante novità interessanti.